Sì, tenendo conto che non vedete, devo passare con la sua vita. Ci siamo? Allora, fate un applauso, Fabio e Paolo. Che sei altro, sto in bando di Cesare Battisti? Sì. Io ti dico per favore. Non è da tutti i giorni, eh? Applauso per me, ci sta? Slema! Grazie. Lui, lui, non è morto, vive in noi. Lui, lui, non è morto, vive in noi. Lui, lui, non è morto, vive in noi. Lui, ha capito. E lui, non è morto. E non è morto. E lui, non è morto, vive in noi. E lui, non è morto, vive in noi. Grazie per la visione! Grazie a tutti!